al faro il varco del tempo dieci anni in due giorni ora ascoltiamo sarah sullam buonasera a tutti inizierò ringraziando il circolo dei lettori per l'invito a questo ciclo di incontri incontri che appunto svolgiamo da casa il decor non è quello del circolo ma cercheremo di fare del nostro meglio e oggi parleremo di to the lighthouse tradotto in italiano come gita al faro da prima e poi madia fusini come al faro che appunto romanzo del 1927 di virginia wolf tutti voi appunto probabilmente l'avrete già letto comunque avrete in mano una delle due traduzioni oggi disponibili c'è quella di madia fusini appunto che lo traduce giustamente traducendo il titolo inglese al faro e quella appunto di anna nato la bella traduzione di anna nato pubblicata per Reinaudi nel pubblicata per Reinaudi col titolo di gita al faro al faro è diciamo così il terzo romanzo cosiddetto sperimentale di virginia wolf siamo nel 1927 e virginia wolf ha già pubblicato altri due romanzo altri due romanzi che appunto rompono con le consuete strutture del romanzo come le ereditate dall'ottocento stiamo parlando naturalmente di la stanza di jacob e di la signora dalloway rispettivamente 1922 e 1925 sono quelli anche due romanzi che come dire virginia wolf pubblica con la coscienza di vivere nel primo dopoguerra quindi di vivere dopo quella che è stato uno dei più grandi sconvolgimenti cioè la prima guerra mondiale ma con al faro wolf ha ben preciso in mente quello che vuole fare se seguiamo la prima ideazione del romanzo e poi gli stadi che accompagnano la sua stesura attraverso i diari di wolf vediamo come wolf già nel 1925 scrivesse e qui cito dai diari appunto di voler fornire il ritratto completo di mio padre di mia madre di sant hives sant hives era il luogo in cornovaglia dove la famiglia wolf era solita trascorrere le vacanze estive l'infanzia e tutte le solite cose che tento di metterci la vita la morte eccetera fine della citazione dal diario tra quelle solite cose come dicevo poc'anzi negli anni venti si può anche aggiungere l'esperienza della guerra o più che l'esperienza il ricordo della guerra e se questa è l'idea di wolf scrivere un romanzo su suo padre su sua madre sull'infanzia potremmo quasi pensare a anche un libro di memorie di una famiglia come quella di wolf che tutto sommato era anche una famiglia nota quindi una rievocazione se vogliamo della famiglia dell'infanzia eppure wolf proprio nella stessa pagina di diario si interroga su quale possa essere il genere all'interno del quale inserirsi cioè quale genere utilizzare per scrivere il libro che ha in mente di scrivere e qui cito sempre dal diario scrive sto pensando che inventerò per i miei libri un nuovo nome che sostituisca la parola romanzo ma quale elegia ora vorrei fermarmi un momento con voi su questa parola elegia elegia è un genere della poesia che si compone è un genere diciamo d'occasione deputato al ricordo del defunto è funzionale in un certo senso all'elaborazione del lutto quindi è un genere che ha a che fare con appunto il defunto il passato e poi con l'insediamento nel presente nella dimensione del presente del nostro presente del presente di chi canta l'elegia di come dire una dimensione nuova in cui appunto il lutto l'elegia è funzionale al superamento all'elaborazione del lutto e questa forma elegia che è quella che Wolf sceglie per il suo romanzo un'elegia che diciamo si articola su tre livelli è un'elegia per i suoi genitori e per la sua infanzia i genitori sono entrambi morti da tempo ma anche per la sua infanzia Wolf ha diversi motivi per scrivere un'elegia è un'elegia per una casa per quella casa dove ha trascorso alcuni momenti fondamentali della propria vita e la casa è anche come dire poi fungerà da metafora di qualcosa di un mondo regolato da alcuni rapporti sociali ben precisi ed è l'elegia anche su un livello diciamo più generale per una stagione passata una stagione passata che è quella immediatamente precedente la prima guerra mondiale quella che appunto è stata anche chiamata da alcuni storici della cultura inglese la l'estate senza fine la endless summer e un'estate senza fine che in un certo senso viene collocata alla fine dell'età eduardiana e l'età eduardiana si conclude nel 1910 con la morte appunto del re edoardo ricordo anche appunto per i lettori più appassionati di wolf che wolf dirà in un celebre saggio che nel 1910 il personaggio uomo cambia quindi quella quella endless summer quella fine dell'età eduardiana in cui si colloca poi parte della vicenda narrata in al faro è appunto una stagione passata che poi come dire è passata irrecuperabile perché poi verrà noi siamo separati da quella stagione non solo dagli anni dal tempo che passa ma anche dalla frattura della guerra che wolf in diverse occasioni mette a fuoco come una frattura irreparabile e incolmabile ora questa appunto è l'elegia e wolf pensa fin da subito a un romanzo articolato in tre parti e suddiviso in tre sezioni la prima parte poi vediamo intitolata la finestra la seconda intitolata il tempo passa e la terza intitolata invece il al faro quindi quella che poi darà il titolo al libro questo questa ripartizione è anche illustrata da wolf stessa attraverso un disegno di due blocchi wolf disegna proprio due blocchi uniti da un corridoio centrale ora vorrei che voi proprio teneste a mente quest'immagine del corridoio che è il corridoio del tempo questi questo incontro appunto è intitolato il varco del tempo e penso che sia molto importante riflettere sulla dimensione dell'attraversamento del tempo un attraversamento del tempo che si compie nello spazio e attraverso alcuni punti dello spazio che nel romanzo ai quali nel romanzo viene data molta attenzione e quindi appunto vorrei poi attraversare con voi questo tempo il tempo di al faro soffermandomi su alcuni brani in ognuna delle tre sezioni cominciamo dalla finestra ora il titolo della sezione alla finestra è come dire altamente significativo a lettori di wolf ricorderà ovviamente la finestra della signora d'halloway su cui letteralmente si apre la signora d'halloway la finestra su cui la signora d'halloway la finestra attraverso la quale la signora d'halloway si affaccia sul ricordo del proprio passato quindi questo elemento della finestra come confine non solo tra il dentro il fuori ma anche tra il passato il presente e il ricordo del passato è già ben presente a wolf e lo ritroviamo anche in questo caso nella prima parte del romanzo la prima parte del romanzo è dedicata a una giornata sola nella vita della famiglia ramsey che appunto una giornata di fine estate nella casa di villeggiatura al mare e abbiamo la famiglia ramsey madre padre e figli con alcuni ospiti tra i quali li librisco una pittrice giovane ma neanche tanto più giovane che vuole portare a termine il proprio ritratto della signora vansey li librisco si accompagna spesso al signor banks e con con lui passa davanti a una finestra siamo fuori nel giardino e passa davanti a una finestra e quella finestra è uno dei modi di cogliere il personaggio elusivo e sfuggente della signora ramsey quello che li li vuole ritrarre che non riuscirà a ritrarre mentre la signora vansey in vita e il cui ritratto porterà a termine solo quando la signora ramsey è morta e siamo già dopo la guerra nella una celebre frase del romanzo recita proprio non bastavano 50 paia di occhi per vedere tutta intera quella donna quindi nella prima parte del romanzo abbiamo diversi momenti in cui questa donna viene guardata e però è proprio il suo movimento nello spazio che rende mobile il ricordo e quindi rende come dire mobile anche la restituzione poi scritta di questo ricordo e nella quinto capitolo della prima parte siamo a proprio nell'ultimo paragrafo del quinto capitolo della prima parte la signora ramsey viene osservata mentre sferruzza e misura sul figli eletto james il calzerotto marrone che vuole dare in dono al figlio del guardiano del faro e la vediamo appunto per un momento ne abbiamo una visione inquadrata in una cornice questa cornice che può essere anche appunto la finestra sferruzzando l'ispido calzerotto rossiccio con la testa bizzarramente inquadrata dalla cornice dorata con lo scialle verde buttato sullo spigolo della cornice la copia del capolavoro di michelangelo la signora ramsey smusso quanto di brusco c'era stato nei suoi modi poco prima alzò gli occhi e baciò il figlio sulla fronte quindi è un'immagine appunto assolutamente come dire che ferma nel tempo per un momento la signora ramsey paragonandola tra l'altro a un quadro di michelangelo anche la cornice è un elemento che la invoca e appunto qui mi piace citare dal canto del mondo reale di liliana rampello che dice che la scena la scena del romanzo è puro spazio reso dinamico dal racconto quindi appunto la tempo il tempo del racconto questo tempo che passa che è il tempo del ricordo che viene e però è spazio reso dinamico dal racconto e in quanto la scena dice rampello la ferriamo inquadrandola con la mente solo alla fine della lettura quindi siamo noi lettori che come lili come altri personaggi tentano di colliare la signora ramsey un altro passo che io penso un altro passo di al faro è tratto che vorrei condividere con voi è invece tratto dal diciassettesimo capitolo della prima parte è il diciassettesimo capitolo il più lungo è quello dove chi di voi ha letto il romanzo ricorderà che è quello dove appunto viene servita la cena che ha impegnato la signora ramsey e al tavolo attorno al tavolo la signora ramsey riunisce tutti tutta la famiglia e tutti i suoi ospiti cercando di combinare poi diversi matrimoni ma soprattutto il matrimonio di due giovani ospiti paul e minta e quindi è la signora ramsey che fa ed isfa la cena la scena scusate letteralmente e c'è un momento però in cui questi personaggi vengono colti no vengono ritratti tutti intorno al tavolo e sembriamo guardarli proprio da un punto di vista mobile che si sposta oscilla vacilla questi sono due verbi molto cari a wolf in tutti i suoi romanzi tra passato e presente tra scena che si svolge e qualcosa che è già il tempo della rievocazione un tempo della rievocazione che rievoca un passato che però è irrecuperabile perché quella tavolata ci dice wolf non sarebbe più possibile ora nel momento in cui le scrive dopo la guerra e qui vi leggo la citazione siamo nel punto alla durante la cena leggo ora le candele erano tutte accese e le facce ai due lati del tavolo erano avvicinate dalla loro luce e composte come non erano al crepuscolo in un gruppo intorno a un tavolo perché la notte adesso era chiusa fuori dai vetri che lungi dall'offrire una visione nitida del mondo esterno lo deformavano in modo così strano che lì dentro la stanza sembravano esserci ordine terraferma e là fuori un riflesso nel quale le cose vacillavano e svanivano come fossero d'acqua d'un tratto furono tutti attraversati da qualche mutamento come se fosse davvero così e fossero tutti consapevoli di essere un gruppo in una baia su un'isola far causa comune contro la fluidità lì fuori quindi questo è chiaramente il gruppo che è in un certo senso consapevole inconsciamente di essere come dire di attraversare il tempo e non si chiede neanche che cosa rimarrà ma guardate questo vacillare tra dentro e fuori e questo vacillare tra dentro e fuori che è un vacillare tra passato e presente che quindi inibisce ogni riavocazione nostalgica del passato perché costringe anche noi lettori a fare questo movimento di andi rivieni è lo stesso con cui la signora nam se si congeda proprio da questa cena e leggiamo qui siamo poche pagine più avanti era necessario adesso portare tutto ogni cosa un passo più avanti con un piede sulla soglia induggiò ancora un attimo in una scena che svaniva già mentre lei guardava e poi mentre si avviava dando il braccio a minta usciva dalla stanza cambiava mutava sembianze apparteneva già lo capivo colgendosi indietro un'ultima volta al passato è quindi questo personaggio elusivo che in un certo senso esce di scena e come dire porta con sé una dimensione temporale e non stupisce quindi che la seconda sezione del romanzo sia intitolata notoriamente il tempo passa tempo passa è diciamo la sezione del romanzo che copre i dieci anni che intercorrono tra l'ultima appunto estate trascorsa della famiglia ramsey nella casa sul mare e invece il ritorno di librisco e del padre ramsey con due dei figli con tre dei figli scusate alla casa e dopo però la guerra è il tempo passa è una breve sezione è quel corridoio che wolfi quotizza che ci dice molto del passare del tempo di un passare del tempo che noi come dire dobbiamo appunto in un certo senso accettare proprio come quei personaggi no attorno al tavolo senza cercare di comporre alcuni eventi all'interno di una narrazione coerente e diventa dire anche all'interno di uno spazio coerente cioè quella casa la casa dove si svolge la prima sezione è una casa che contiene alcune relazioni che come dire sfoceranno in alcune narrazioni di esistenza no matrimoni divorzi padri figli generazioni tutto sembra avere un senso all'interno di quella casa ma la tragedia della guerra spazza via tutto questo sistema di relazioni ed è questo passare del tempo il tempo il passare del tempo diventa protagonista le relazioni anche proprio causali diventano sono assoluti vengono sgretolate gli eventi del relativi alla famiglia ramsey la morte della signora ramsey della figlia pru e del figlio andrew sono collocate tra parentesi quadre che come dire sono le parentesi quadre che concludono i brevi capitoli di cui è composta la sezione il resto è appunto incentrato su questo passare del tempo la sezione si apre con il signor banks che dice bene dobbiamo aspettare che il futuro si manifesti quindi non siamo ancora dobbiamo aspettare che il futuro si manifesti e quindi bisogna ritirarsi e lasciare entrare il tempo è una sezione altamente poetica appunto è una sezione che in un certo senso cerca di raccontarci che cosa succede quando il tempo passa senza che noi lo guardiamo passare e senza che noi ci insediamo all'interno di una successione di eventi e appunto vorrei qui citare l'inizio del terzo capitolo di questa sezione in cui ci si chiede ma che cos'è una notte dopo tutto un intervallo breve specie se le tenebre calano così presto e così presto cantano gli uccelli il gallo fa chicchirichi un verde scialbo di foglia che abbrunisce balena nel concavo dell'onda pensate qui come wolf ribalta quel topos della notte come eterna lunga perpetua no dice questo cos'è una notte dopo tutto dopo tutto noi appunto una notte è niente e questa notte che è una notte metaforica la tragedia la guerra l'entrata in un tempo ignoto è una notte che in un certo senso a cui in un certo senso non possiamo chiedere nulla e proprio alla fine del terzo capitolo leggiamo vi cito sembrerebbe quasi del tutto inutile in tale confusione fare alla notte quelle domande circa il perché il come che tentano il come il dove che tentano chi dorme fuori dal letto per trovare la risposta e appunto questa notte questo sonno si conclude nell'ultima nell'ultimo capitolo di questa sezione con il risveglio di Lili Briscoe che torna nella casa e appunto le ultime l'ultime righe di questa sezione recitano Lili Briscoe spalancò gli occhi era di nuovo qui pensò seduta nel letto ritta come un fuso sveglia e significativamente se alla notte non possiamo chiedere perché come dove Lili Briscoe al suo risveglio è in grado di porsi di nuovo queste domande e infatti l'ultima sezione il faro si apre con una domanda ma che significa che può significare si chiedeva Lili Briscoe incerta e quindi questa domanda questa diciamo domanda che riguarda il senso delle cose è la domanda che poi orienta la parte finale del romanzo in cui abbiamo finalmente la gognata agita al faro che avrebbe dovuto realizzarsi dieci anni prima e soprattutto da parte di Lili Briscoe il completamento del quadro della signora Ransi però questo quadro è un quadro in cui finalmente attraverso una composizione di forme astratte qui ci sarebbe molto da dire sulla diciamo sottotesto artistico storico artistico del romanzo ma sarà l'argomento di un prossimo incontro si spera Lili Briscoe completa il suo quadro perché riesce diciamo a prendere distanza da come dire la presenza elusiva ma anche pervasiva della signora Ramsey e lo fa proprio perché si insiede in una temporalità che ha preso atto del passare della notte e della morte soprattutto la morte che è quella della signora Ramsey ma quella di Fruity Andrew di milioni di persone e appunto abbiamo nel quinto capitolo della terza parte il faro abbiamo proprio Lili Briscoe che pensa ripensa rievoca il ricordo della signora Ramsey per finalmente concludere il suo dipinto e cito pensa oh i morti mormorò li si compatisce li si allontana li si disprezza perfino un poco sono la nostra mercè la signora Ramsey era impallidita e scomparsa pensò possiamo non tenere più in conto i suoi desideri lasciar perdere le sue idee limitate all'antica si allontanerà sempre da noi e si allontanerà da noi sempre di più per scherzo Lili si immaginò di vederla in fondo un corridoio di anni che diceva cosa quanto mai ridicola sposati sposati e bisognava pur dirle niente è andato secondo i suoi desideri loro sono felici così io così la vita è andata del tutto diversamente ecco con questa rievocazione dell'immagine del corridoio con l'immagine che Wolf ha usato nel suo diario per descrivere appunto il tempo passa questo corridoio permette di allontanarsi da un'immagine della signora Ramsey da un modo di intendere le relazioni le cose di accettare che la vita è andata del tutto diversamente quindi di comporre quel ricordo in qualcosa che non è nostalgico di quello che è stato ma restituisce le vibrazioni il riverbero di quello che è stato ma in modo nuovo e qui per concludere vorrei leggervi un brano di un saggio che Wolf scrive proprio nei mesi in cui sta finendo di scrivere al faro è un saggio dedicato a uno scrittore a Wolf molto caro Thomas de Quincy l'autore delle confessioni di un oppiomene intitolato prosa appassionata che trovate raccolto all'interno di Voltando Pagina la raccolta di saggi di Wolf curata da Liliana Rampello per il saggiatore e qui Wolf ci sta ci parla di un gruppo di persone e come descrivere quel gruppo di persone col gruppo di persone che è la famiglia Ransi e vi leggo la tavola della colazione sembra che dica è soltanto un'apparizione temporanea che possiamo con il pensiero rendere inesistente o investire con tali associazioni che anche le sue gambe di Morgana acquistano fascino sedere vicinissimi gomito gomito con i nostri simili tutti ammucchiati insieme è sgradevole addirittura ripugnante ma allontanatevi un po guardate le persone in gruppi come sagome di cui sono tracciati solo i contorni ed esse diventano immediatamente memorabili e piene di bellezza non è ciò che si vede realmente o il suono di per sé che conta ma il riverbero o l'eco che la vista o l'udito creano mentre ci attraversano la mente questi spesso si trovano lontano stranamente trasformati ma è soltanto raccogliendo e mettendo insieme questi frammenti che arriviamo alla vera natura della vostra esperienza ed è proprio quello che wolf fa col faro e che lili finalmente compie col suo quadro grazie